Per una favola d'altri tempi, scegli il matrimonio in carrozza Luigi Runza. Una carrozza raffinata ed elegante, trainata da cavallo, accompagnerà il tuo giorno più bello. Escursioni personalizzate, itinerari storici e naturalistici, ed enogastronomici, trasporti turistici, alberghieri, compleanni, campi estivi, progetti scolastici e spettacoli equestri. Luigi Runza, Via Canada 28, Rosolini, telefono 338-3273-052.